E' arrivata la nuova Degutta Box di gennaio, l'apriamo insieme? Oggi l'apriamo con mio nipote, vediamo insieme cosa troviamo Wow! Iniziamo dalle fette biscottate della Monviso con pava di cioccolato e cocco Io ho trovato il latte Bravo! Ma non svelare i segreti che ci sono nella scatola Vediamolo a poco alla volta Che ne dici di mangiarci una bella fetta biscottata con il cioccolato? Va bene, dopo la mangeremo Vediamo un po' cosa c'è Plum cake senza lattosio Tocchio senza lattosio Vuoi aprirli? Sì Prova ad aprirli, dai Io nel frattempo faccio vedere cosa abbiamo trovato nella Degusta Box Abbiamo gli ottimini al grano saraceno Con una grande fonte di fibra Queste per la mattina sono ottimi da anzuppare dentro il latte Naturalmente essendo al grano saraceno che è un grano ottimo Essendo ricche ricche di fibra Sono buone per la prima colazione Un ottimo inizio Poi abbiamo, vediamo un po' Il latte colazione plus Più 50% di proteine Più 30% di calcio Wow, questo non l'avevo mai visto Domani mattina faremo colazione con il latte parmalat colazione plus E un bel plum cake Aspetta un attimo che ti aiuto Tieni qui No, mancheri da qui, altrimenti non riesco Devi tirare qui, guarda No, devi tenere qui Bravo No, no, tu tieni qui e io tiro Tu tieni qui Tieni Tiriamo Ecco qui ci siamo riusciti Evviva Dobbiamo assaggiare? Certo che dobbiamo assaggiare Eccolo qui Assaggia Poi io continuo a vedere cosa c'è all'interno della degusta box di gennaio Abbiamo una marmellata della Zueg e frutti di bosco Deliziosissima Questa anche per la mattina Ottima per la colazione Poi abbiamo Il tè Lipton Yellow Label Anche questo Ottimo per la colazione Infatti Da domani È buona È buona? Ottimo Facciamo vedere che ha dato un morso enorme alla briochina Al plum cake senza lattosio Con la farina di riso Ecco qui il tè per la mattina Vediamo un po' Cosa è questo? Peperoncino Anco In fiocchi Wow Questo lo farò provare a mio padre Perché io non mangio peperoncino Quindi Non lo mangio Lo mangia lui Dolcisi in fundo Mi aiuti a tirare? Wow Che meraviglia Le pesche italiane Sciroppate E che barattolone Queste anche per la mattina Per la colazione Sono ottime Quindi Abbiamo degli ingredienti La degusta box Di questo mese E tutto per la colazione Quindi mangeremo La mattina Una Ottima Un'ottima colazione Che dici? Plum cake sono ottimi Vero? Sì Ok Vi raccomando Degusta box Di gennaio Acquistate la degusta box Perché riceverete Sempre prodotti innovativi E nuovi Alla prossima E lasciate un like Ecco Grazie a tutti